Ma io non dovrei parlare più forse di questa cosa perché ieri la Presidente Meloni nel salutarci mi ha detto che sono rimasto l'unico a difendere la Francia e io l'ho risposto se lei ha ancora dell'idea di riportarci la Gioconda, ci siamo salutati così. Ma sì, c'è poca attenzione a questa questione, soprattutto c'è poca attenzione al fatto che qualcosa si potrebbe fare, ovviamente non tutto, ma una parte si potrebbe già fare utilizzando le risorse del PMRR. E quindi c'è il grande tema di queste risorse inutilizzate, dell'incapacità progettuale da parte del governo e anche degli enti locali e da parte del governo di subentrare quando gli enti locali non ce la fanno. Andrà a portare questo disagio di vicinanza? Sì, a solidarizzare, ad ascoltare e anche a cercare di capire se si può fare qualcosa a livello parlamentare.